Io vivo con una partita come tutte le altre, una partita dove la squadra deve andare a fare la sua gara. Rispettiamo il Genoa per quello che è stato il suo percorso, perché è un'ottima squadra. Ha un bravo allenatore come Gasperini, che sicuramente sa preparare bene le sue squadre. E quindi sappiamo che il Palermo, come siamo stati abituati in questa prima parte di campionato, dovrà fare necessariamente una grande partita per portare a casa un risultato positivo. Quindi ci dobbiamo preparare noi a farla nel migliore dei modi. Io sono semplicemente una persona che quando va in campo ha fatto sempre il suo dovere. E con le sue squadre vuole fare il meglio perché la propria squadra, prima da giocatore e poi da allenatore, faccia il suo dovere, nel migliore dei modi, per onorare la propria società, i propri tifosi e la propria maglia. E quindi vuole cercare di vincere le partite. Se poi questo è un problema, è una colpa, vabbè pazienza, io ne vado fiero e vado attestato per quello che è il mio percorso di lavoro. Altro non ho avuto mai niente da dire, da causare. Noi, certo, abbiamo detto che dobbiamo rispettare il Genoa per quello che ha fatto. Nello stesso tempo noi da Palermo ci aspettiamo sempre una continua crescita, un metro di valutazione sia individuale che collettivo, di squadra. E comunque sia sappiamo che questo processo di crescita passa solo esclusivamente attraverso un lavoro settimanale, un lavoro di squadra, di mentalità, di approccio alle partite, di attenzione, concentrazione. Cura dei dettagli e questo dovremo sempre comunque portarlo avanti. Noi stiamo lavorando anche su più soluzioni, la squadra deve essere pronta anche ad avere più soluzioni. Poi, a secondo delle partite o di quelle che possono essere le valutazioni individuali, poi di volta in volta si faranno, ma è chiaro, si sta andando avanti per capire, anche per fare un certo tipo di percorso di varietà di impiego da parte degli interpreti, anche su più ruoli. Perché poi fondamentalmente andando avanti con il campionato ci può essere bisogno, sia in corso di partita che dall'inizio, di sapere andare a variare, oltre che negli uomini, anche nello schieramento, nell'adattarsi anche a un nuovo modulo tattico. Quindi lo stiamo già portando avanti, l'abbiamo già fatto in queste prime undici partite e continueremo a lavorarci. Nelle mie squadre, sempre, non solo a Palermo, ma dovunque ho allenato, ho sempre giocato almeno tre davanti. E a prescindere che poi qui si possa giocare con due, comunque sia, rimane il fatto che si debba accompagnare la manovra offensiva con più giocatori. E che poi il giocatore che va di incursione, possa essere un esterno, possono essere due centrocampisti che vanno dentro, rimane il fatto del principio con quanti uomini si va a braccare la porta avversaria. E con quante persone si va a occupare gli spazi nell'area di rigore avversaria e si va a fare presenza. Mi sembra che il Palermo, in questo senso, sia una delle prime squadre a livello di tiri in porta in questo campionato di Serie A. Mi sembra che sia stata, no, per le statistiche. Questa la dice lunga sul fatto di quante volte tiriamo in porta, di come lavoriamo in fase offensiva. Al contrario, magari, di quanti possano pensare e dire che il Palermo, magari, cura la fase difensiva. È tutt'altro che vero. Grazie.